Salve a tutti, benvenuti al corso d'italiano B1. Ciao, benvenuti al corso d'italiano B1. Io sono Susi. Lezione 47 Unità 5 Stare bene Sentì健康 Conjuntivo presente uno Su ni shi,现在 si i. Ciao a tutti, benvenuti al unità cinque. 大家好,欢迎来到第五单元. 在这一单元中呢,语法上,我们将学习一个新的语诗, Su ni shi, il conjuntivo. 它包含现在时, presente, 过去时, pasado, 未完成过去时, imperfecto, 和预过去时, trapassato. 在本单元中呢,我们将学到它的现在时和过去时, 而它的未完成过去时和预过去时呢, 我们将在第七单元中学到. 关于虚拟式现在时, 由于其动词变味和用法的复杂, 我们将分三课进行讲解。 虚拟式过去时呢, 我们将用一课进行讲解。 此外, 我们会用另外五课来学习如何表达看法, exprimere pareri, 意见, opinioni, 希望, speranze, 如何提出条件, porre condizioni, 如何请求和允许别人做某事, quedere e dare il permesso di fare qualcosa, 谈论健康的生活方式, parlare del viversano, 和意大利的体育运动, sport italiani, 当然, 单元最后一课的repasso中呢, 也不可缺少意大利首饰第五奖。 怎么样, 说了那么多, 我们先正式进入虚拟式吧。 虚拟式是书画人用来表示可能性, possibilita, 意愿, desiderio, 不确定, timore, 疑问, dubio, 或主观观点, opinione suggestiva的语识, 与表示现实和确定观点的直程式相反。 我们今天呢, 先来学习虚拟式现在时的动词变位。 首先, 来看一下它的规则变位。 动词以are结尾, 我们继续试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试 Noi guardiamo Voi guardiate Loro guardino Creare Io crei Tu crei Lui lei lei crei Noi creiamo Voi creiate Loro creino Iare结尾的动词 其虚拟式 现在式的变为为 把动词末尾 去掉后 变为 Io Tu Lui lei lei Noi Iamo Voi Iate Loro Ino 在这里 大家有没有发现 Iare 结尾的动词 其虚拟式 现在式 第一 第二 第三人称 单数 变为 相一致 都是把are 去掉后 加上i 并且 Iare 结尾的虚拟式 现在式 第一人称 负数变位 和支撑式 现在式 第一人称 负数变位 还有命令式 第一人称 负数变位 是相一致的 都是把are 去掉后 加上 iamo 此外 Iare 结尾的动词 其虚拟式 现在式 第三人称 负数变位 和命令式 第三人称 负数变位 相一致 都是把are 去掉后 加上 ino 需要注意的是 Iare 结尾的动词 其虚拟式 现在式 第二人称 负数变位 是 Iate 而不是 ate 我们再来看 I Iare Care 和 Gare 结尾的虚拟式 现在式 规则变位 MANGIARE Io MANGI Tu MANGI Lui Lei Lei MANGI Noi MANGIAMO Voi MANGIATE LOR MANGINO CERCARE Io CERCHI TU CERCHI Lui Lei Lei CERCHI Noi CERCHIAMO Voi CERCHIATE Loro CERCHINO PAGARE Io Paghi TU Paghi Lui Lei Lei Paghi Noi Paghiamo Voi Paghiate Loro Paghino 大家有没有发现 MANGIARE 虚拟是现在时除第一人称单数 第三人称单数变为为MANGI 第三人称负数变为为MANGI 剩下的变位和指成是现在时变为一致 也就是以IAR结尾的动词 其虚拟是现在时第一第二第三人称单数变为一致 都是直接把AR去除 第一人称负数和第二人称负数变为和指成是现在时第一第二人称负数变为相一致 第三人称负数变为则把AR去掉后加上NO I CARE结尾的动词 其虚拟是现在时第一第二第三人称负数变为一致 把AR去掉后加上KI 第一人称负数变为和指成是现在时第一人称负数变为相一致 都是去掉AR后变为KIAMO 第二第三人称负数变为TAR后加KIA TE KI NO 这里一定要记得在变位时出现的AKA 同样道理 I CARE结尾的动词 其虚拟是现在时第一第二第三人称变为一致 都是把AR去掉后加上GI 第一人称负数变为和指成是现在时第一人称负数变为一致 去掉AR后变为GIAMO 第二第三人称负数变为则在去掉AR后加上GIA TE GINO 这里也要记得在变为时出现的AKA 接下来我们来看AR结尾的动词 PENDER PENDER IO PENDA TU PENDA LUI LEI LEI PENDA NOI PENDIAMO VOI PENDIATE LORO PENDANO PENDA 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 LEGGIAMO PENDA 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 是第一人称负数变为一致 都是把ER去掉后加上YAMO 虚拟是现在时第三人称负数变为和命令式第三人称负数变为一致 都是把ER去掉后加上ANNO 需要注意的是,第二人称副数变为为IATE,而不是ETTE. 我们继续来看以IR结尾的动词. 我们继续来看以IR. Lui, lei, lei APRA. Noi APRIAMO. Voi APRIATE. LORO APRANO. Io FINISCA. TU FINISCA. Lui, lei, lei FINISCA. Noi finiamo Voi finiate Loro finiscano Preferire Io preferisca Tu preferisca Lui, lei, lei preferisca Noi preferiamo Voi preferiate Loro preferiscano 和支撐式现在式变位一样 以 ir结尾的动词 其虚拟式现在式也有两种变位 其中第一种变位和 ir结尾的动词 变位完全一致 比如 sentire abrire 其虚拟式现在式变位 把 ir去掉后加上 Io, a Tu, a Lui, lei, lei, a Noi, iamo Voi, iate Loro, anno 另一种以 ir结尾的动词 其虚拟式现在式变位 把 ir去掉后加上 Io, i-s-ca Io, i-s-ca Io, i-s-ca Tu, i-s-ca Lui, lei, lei, i-s-ca Noi, i-a-mo Voy, i-a-te Loro, i-s-ca-no 下面,我们一起来按照以上变位规则 来填写一下 下列动词虚拟是现在时的规则变位 cantare io canti tu canti lui, lei, lei canti noi cantiamo voi canti loro cantino contagiare io contagi tu contagi lui, lei, lei contagi noi contagiamo voi contagiate loro contagino giocare io giochi tu giochi lui, lei, lei giochi noi giochiamo voi giochiate loro giochino navigare navigare io navighi tu navighi lui, lei, lei navighi lui, lei, lei navighi noi navighiamo voi navighiamo voi navighiamo voi navighi voi navighi loro navighino tu dorma tu dorma lui, lei, lei dorma lui, lei, lei dorma noi dormiamo voi dormiate voi dormiate loro dormano favorire favorire io favorisca tu favorisca lui, lei, lei favorisca noi favoriamo voi favoriate loro favoriscano svegliamo svegliarsi svegliarsi io mi svegli tu ti svegli lui, lei, lei, lei si svegli noi ci svegliamo noi ci svegliamo voi vi svegliate loro si sveino 最后一个 svegliarsi 尽管是自凡動词 要在動词变位前 加上自凡人称 但其变位规则 还是一致的 关于规则变位 如果大家没有问题的话 接下来我们来看一下 虚拟是现在时的 不规则变位 以下呢 为一些常用 虚拟是现在时 不规则变位动词 sre io sia tu sia lui, lei, lei sia noi siamo voi siate loro siiano avere io abbia tu abbia lui, lei, lei abbia noi abbiamo voi abbiate loro abbiano andare io vada io vada tu vada lui, lei, lei vada noi andiamo voi andiate loro vadano starre starre io stia tu stia lui, lei, lei stia noi stiamo voi stiate loro stiano farre io faccia tu faccia lui, lei, lei faccia noi facciamo voi facciate loro facciano dare io dia tu dia lui, lei, lei dia noi diamo voi diate loro diano potere io possa tu possa lui, lei, lei possa noi possiamo voi possiate loro possano voler io voglia tu voglia lui, lei, lei voglia noi vogliamo voi vogliate loro vogliano dover dover io debba tu debba lui, lei, lei debba noi dobbiamo voi dobbiate loro debbano saper sapere io sappia tu sappia lui, lei, lei sappia noi sappiamo voi sappiate loro sappiano piacere piacere piaccia tu piaccia lui, lei, lei piaccia noi piacciamo voi piaciate loro piaciano berre io beva tu beva lui, lei, lei beva noi beviamo voi beviate loro bevano tenere io tenga tu tenga lui, lei, lei tenga noi teniamo voi teniate loro tengano venire io venga tu venga lui, lei, lei venga noi veniamo voi veniate loro vengano uscire io esca tu esca lui, lei, lei esca noi usciamo voi usciate loro escano porre io ponga tu ponga tu ponga lui, lei, lei ponga noi poniamo voi poniate loro pongano tradurre io traduca tu traduca lui, lei, lei traduca noi traduciamo traduciamo voi traduciate loro traducano 课程 课程最后呢 我们一起来总结一下虚拟式现在式的规则变位 一般 一般 以are 结尾的动词 把are 去掉后 变为 io io i i tu i lui, lei, lei i noi iamo voi iate loro i no 第一种 不知道同学们有没有发现 不管是规则变位 还是不规则变位 同一个动词 其虚拟式现在时 第一人称 第二人称 第三人称 单数变位 相一致 第一人称 复数变位的变位 总是以 Iyamo结尾 第二人称 复数变位 总是以 Iyate结尾 课程结束前 我们来一起阅读一篇文章 La familia italiana 请同学们在文章中找出 请同学们在文章中找出 用到虚拟式现在时的动词 并写出其原型 La familia italiana Pare che Per diverse ragioni economiche e sociali la struttura della famiglia italiana dei ultimi 30 anni sia molto diversa dal modello tradizionale sembra che la famiglia italiana moderna sia composta dai genitori ed uno o due fili e che entrambi i genitori generalmente lavorino fuori casa 在近30年里 i大利家庭结构 好像由于各种 不同的经济 社会原因 而不同于 传统的家庭模式 似乎 现代 i大利家庭 是由两个 都在外工作的父母 和一 之两个小孩 组成 la famiglia italiana tradizionale agricola e patriarcale era invece moto numerosa e riuniva genitori fili e nipoti soto uno stesso tetto i uomini lavoravano mentre le donne sia occupavano della casa e dell'educazione dei figli quantung 農業 fucenzi i大利家庭 曾是一个 大家庭 并聚集在 父母身边 儿女和孙辈 都住在 同一屋檐下 男人干活 女人则照顾 家庭 和儿女的教育 patriarcale 信用此 fucenzi de famiglia patre fucenzi 家庭 causata dalla conversione de l'Italia da un paese prevalentemente agricolo aduno industriale non ha tuttavia ancora cancelato ogny traccia del vecchio modello infatti sembra que ci siano ancora abitudini en modi en modi de pensare blog 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 di recensioni prevalentemente Il momento di dialogo tra genitori e figli. Uno dei pochi nei quali tutti i membri della famiglia hanno la possibilità di stare insieme. In secondo luogo, per essere una famiglia non creare, non è raro che uno dei noi patello. Specialmente se è rimasto vedovo o vedova, viva in casa con uno dei figli. Avviene spesso che i noni vivano generalmente nella stessa città di uno dei figli e siano oggetto delle cure dei familiari. A cade di arado. Solo in caso di impossibilità pratica. A fornire loro assistenza. Che i figli chiedano il ricovero dei genitori anziani in istituti. Le cusidete. Casi di riposo. Diorado. Un ulteriore elemento che lega ancora la famiglia italiana di oggi a quella del passato è lo stretto legame affettivo che rimane tra i suoi membri anche quando questi hanno formato nuovi nuclei familiari. I italiani sono, per esempio, sempre pronti ad aiutare i loro parenti. Specie nel campo del lavoro o nelle difficoltà economiche. L'inferno di oggi. L'inferno di oggi. L'inferno di oggi. Infine, la famiglia italiana, con quella americana, emerge un'ultima caratteristica del modello italiano. È molto comune che i figli vivano con i propri genitori molto più a lungo che negli altri paesi occidentali, spesso fino a 30-35 anni, prima di sposarsi e di iniziare una nuova famiglia. Infatti, è normale che un giovane italiano continui a vivere nella stessa casa dei genitori e a dipendere economicamente da loro. Infine, l'inferno di oggi. L'inferno di oggi. Viva, vivano. Viva, vivano. Continui Sia Siano de donzionessi Viva 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 Continui 動詞原型為 Continuare 今天的課程就到這裡了 不知道大家對虛擬式現在式的動詞變位是否還有問題 下一講我們將進入如何使用虛擬式現在式 alla prossima puntata arrivederci